ciao e benvenuto o benvenuta non è necessario ripetere le affermazioni puoi semplicemente ascoltarle in qualunque momento della giornata segui inoltre l'audio tutti i giorni per 90 giorni inoltre sappi che le stesse affermazioni di questo audio le trovi in versione subliminale con una musica adatta che qui darebbe problemi di copyright e della durata di 30 minuti compreso di una magnifica e semplice visualizzazione di cinque minuti inclusa nel video clicca nel link qui sotto in descrizione inoltre sappi anche che puoi scaricare l'audio immediatamente e ascoltarlo così senza linea internet per chi mi segue sa perfettamente che le versioni subliminali sono decisamente più efficace perché arrivano direttamente all'inconscio bypassando la parte irrazionale che tende a giudicare e molte volte bloccare determinate affermazioni ripeto link qui sotto in descrizione iniziale io vivo in un universo pieno di prosperità perché ogni giorno attrago sempre più denaro l'allegria nel mio cuore libera una grande quantità di cose belle nella mia vita perché adesso so che merito la prosperità nella mia vita perché ho sempre denaro attrago denaro in tutti i modi possibili tutti vogliono fare progetti con me perché sono grande perché sono la persona più fortunata che conoscono perché adesso sono una vera calamita per il denaro o fede perché adesso sono guidato per ottenere risultati magnifici nella mia vita riempio la mia mente con idee e credenze di prosperità sapendo che si manifesta in tutti gli aspetti della mia vita perché sono così grato per il flusso illimitato di prosperità che fluisce in me ora la prosperità mi circonda tutto ciò che do con il cuore ritorna a me moltiplicato in qualunque modo perché tutto ciò che tocco mi dà molta più prosperità la mia vita è piena di amore prosperità e benessere con la guida dell'universo la mia vita è piena di successo allegria e grande prosperità questa giornata è piena di opportunità e apro il mio cuore per riceverlo perché sono così eccellente nell'amministrare grandi quantità di denaro perché ho sempre denaro la prosperità è mia mi appartiene ringrazio per il flusso illimitato di cose belle che arrivano ora nella mia vita perché ricevo denaro in maniera inaspettata perché vivo una vita veramente prospera perché ho sempre così tanto denaro più di quanto immagini cose meravigliose arrivano a me perché vivo con un atteggiamento di piena gratitudine cose meravigliose arrivano a me perché vivo con un atteggiamento di piena gratitudine la ricchezza e la mia eredità divina io sono la fonte della mia prosperità perché posso pagare tutte le mie spese con mesi di anticipo io sono l'immace e il modello di prosperità per me e per gli altri io vivo in questo universo abbondante perché ho sempre denaro in grande quantità posso creare denaro e prosperità attraverso l'allegria la vitalità e l'amor proprio ogni giorno sono sempre più magnetico prosperità e abbondanza perché finalmente mi sento finanziariamente sicuro io creo la mia prosperità limitata merito di essere grande perché lo sono in me fluisce una potente corrente di ricchezza perché guadagno così tanto denaro perché ho così tanta fede che l'universo si prende cura di me le mie parole motivano e ispirano altre persone la ricchezza è venuta per rimanere ora nella mia vita tutto è perfetto nell'universo l'universo è sicuro e abbondante ho fiducia in me stesso ho fiducia che tutto arriva nel momento perfetto e nella forma corretta perché ho così tante idee geniali che mi portano grandi quantità di denaro perché sono così eccellente in quello che faccio perché sono capace di vedere le opportunità adesso perché arrivano grandi occasioni per la mia vita finanziaria posso guadagnare molto e divertirmi allo stesso tempo adesso so che queste sono le mie nuove credenze credo e creo con tutta la fede possibile che ho in corpo anima e mente grazie e ricorda il nostro compromesso le tre c commenta condividi e crea commenta dammi la tua opinione idee o dai valore qui sotto nei commenti ad altri utenti ti leggiamo sempre e mi ispira a vedere le testimonianze dei grandi cambiamenti che stiamo apportando a migliaia di persone condividi aiuta altre persone a conoscere questi concetti condividi il contenuto con i tuoi amici familiari e nelle tue reti sociali e crea utilizza ciò che hai imparato per creare qualcosa di magnifico nella tua vita inoltre iscriviti e attiva la campanellina su tutti i video per ricevere altro contenuto a tempo record quando caricherò altro materiale al tuo benessere così è e così sarà